Due minuti due, fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con Due minuti due da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Hanno perso tutti, ma tutti cantano vittoria. Nella vicenda della mozione di sfiducia al sindaco greco, che come sappiamo è stata rinviata nella trattazione di 40 giorni, tutti dicono di aver fatto un passo avanti e tutti dicono di aver vinto, ma non è così. Il centro-destra, che doveva uscire forte, anzi fortissimo, dalla mozione di sfiducia al sindaco, anzi spedirlo anche a casa, ha dimostrato di non essere unito, anzi di non esistere. Il centro-sinistra, che sembra risorto dalle sue generi, ha davanti però una montagna impervia da scalare e se fa da stambella l'attuale amministrazione non andrà lontano. Da 5 Stelle, che hanno due senatori e un deputato di primordine all'Ars, non ci si aspettava sicuramente questo silenzio e comunque ci si aspettava un ruolo da leader di chi sia guidato i processi e invece nulla di tutto questo. Non ha vinto nemmeno il sindaco, che ha mantenuto la poltrona, solo che da tutti i dischieramenti, a parte i suoi otto consiglieri, è stato sonoramente bocciato. La sfiducia greco la meritava eccome, ma è stato graziato dalla proroga della Corte dei Conti. Per greco sarà difficile riproporsi. Nei partiti, peraltro, ci sono già decine di aspiranti alla candidatura, pronti a togliere il posto, anche se è l'eredità che lascia di debiti da pagare. Tanti, tantissimi, non sappiamo quanti, ma lo sapremo presto. Nella vicenda della mozione di sfiducia ha perso la politica locale, fatta di giochetti, tatticismi, liti e personalismi, ma sono espedienti, triti e ritriti, che ormai non ingannano neanche chi è lontano ai mille miglia dagli ambienti di Palazzo di Città. Alla fine il conto lo pagheranno tutti. Al prossimo appuntamento. Due minuti due. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.